Bene salve a tutti carissimi amici bentornati insieme a Guerzo86 oggi andiamo a vedere Nexus 5 dopo un ben più di un anno di utilizzo infatti in questo video cederò la parola a Jacopo ovvero il possessore di questo Nexus 5 e così insieme a lui vi racconterà tutto l'evento, tutti i suoi mesi insieme al Google fonino Eccoci dunque come ha detto Ema con il mio Nexus che ormai ha già più di un anno perché non l'ho comprato proprio al day one ma insomma due settimane dopo avevo il Nexus 4 ho fatto il cambio con il 5 perché ormai la serie Nexus mi appassionava tantissimo e devo dire dopo un anno questo telefono secondo me non ha una pecca ovvero certo ci sono tante cose meglio però non lo condanno come fanno molti col dire che magari la batteria non arriva proprio a fine serata oppure le foto si fanno male certo ci sarà sempre un telefono migliore di altri però non c'è nemmeno da condannarlo chissà quanto come vedete io dopo un anno ho continuato addirittura ad avere le pellicoline quelle originali che c'erano all'inizio non ho tenuto la pellicola proprio perché c'era la scritta Nexus se no avrei tenuto anche quella ma avevo fatto sul 4 ecco una cosa importante per esempio è il fatto che a distanza di un anno io ho sempre avuto questa pellicola comprata per errore all'inizio e non era proprio delle stesse dimensioni quindi come si può notare qui sotto la parte è rimasta scoperta per bene un anno nonostante tutto non c'è un minimo graffio quindi insomma anche il Gorilla Glass fa il suo tranquillamente per quanto riguarda l'autonomia sì io ci arrivo tranquillamente a sera con le dovute precauzioni quindi usando applicazioni tipo Greenify che mi permette di escludere tutte le applicazioni eseguite in background che non uso come per esempio le notifiche di Facebook, di Twitter o di altri quindi se ne ho bisogno le apro direttamente per quanto riguarda le foto beh quelle mi reputo un pochino incapace io perché ci sono delle volte magari che ho fatto delle foto anche carine però la maggior parte delle volte no sono foto normalissime fatte con qualsiasi telefono per quanto riguarda l'aggiornamento invece il passaggio all'Hollipop che come ricordiamo ultimamente si è anche aggiornato all'ultima versione la 5.0.1 in attesa della 5.0.2 vi dirò io mi aspettavo qualcosa di meglio perché dalla presentazione sembrava una gran bella cosa adesso invece ad utilizzarlo ci si accorge che è veramente acerbo come sistema ci sono molti bug ci sono tantissimi problemi come per esempio come potete vedere nel task le applicazioni rimangono aperte bisogna mandarle via un paio di volte delle volte addirittura sistema di Android rimane aperto per il resto come detto mi trovo benissimo non sento magari il bisogno di cambiare telefono perché non ne trovo proprio l'utilità a batteria arrivo tranquillamente a sera le applicazioni sono fluide quindi non ci sono impuntamenti vari quindi direi bisogno di cambiare perché magari non reggono le applicazioni la memoria ha un 32 giga quindi ci entrano tranquillamente foto video applicazione tutto quel che voglio dentro cadere non mi è mai sì mi è cascato tre volte però ovviamente sempre tenuto maniacalmente con le hover per adesso ho una spiga in hybrid quindi coperto ai massimi livelli l'unica cosa mi ho detto è il fatto della pellicola che inizialmente mi dava delle preoccupazioni con il fatto che qui rimanesse scoperto quando invece ogni tanto ci faccio l'occhio e non c'è un minimo graffio quindi io direi che dopo un anno questo telefono è veramente promosso ai massimi livelli l'unica cosa volevo fare io adesso una domanda parliamo anche di Nexus 6 ovvero il predecessore di questo Nexus 5 a chi vorrebbe entrare adesso nel mondo Nexus consigli levando il fatto che hai tu un Nexus 5 questo smartphone oppure sarebbe davvero meglio passare al Nexus 6? ma non saprei perché insomma il Nexus 5 come ho detto finora è un validissimo telefono perché non si ha bisogno di chissà quale caratteristiche se lo si compra adesso ovviamente si trova a prezzi bassissimi ovviamente c'è il fatto che è fuori produzione quindi la garanzia ci saranno dei problemi con la garanzia e poi soprattutto diciamo magari le dimensioni ecco come ho sempre detto magari in altri video che abbiamo fatto insieme per me i 5 pollici sono una misura perfetta i 6 pollici invece del Nexus 6 sono altamente esagerati io per esempio ho provato a usare per un po' i 6 plus di EMA è enorme cioè non mi ci trovo minimamente mentre questo come possiamo vedere o sono io che ho le mani grosse o comunque penso che sia comunque uno standard con il pollice copriamo tutto lo schermo tranquillamente quindi non c'è bisogno di dover utilizzare per forza due mani per coprire tutto lo schermo possiamo tirare tranquillamente giù le notifiche leggerle tutte possiamo passare da qualsiasi parte dello schermo senza problemi questo telefono è secondo me la perfezione perché il rapporto qualità prezzo e supporto secondo me non ce ne sono altri bene cari ragazzi quindi per oggi è tutto da Emanuele e Jacopo è veramente tutto ci sentiamo ovviamente alla prossima video recensione